Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono LoraG07 e oggi giocheremo con un membro del club, del team Amoney, che usa il mio tag L07, che è un mio fan, però faremo qualche partita, andiamo, vabbè, un attimo la registrazione la metto qua e andiamo. Ecco qua, andiamo. Ma, è morto, questo è un problema. Comunque sono dei miei fan, voglio dire, comunque è bello giocare con i miei fan, perché dà emozione. Ma se ti vuoi scappare. Io qui ne so. Oh, bravo. Oh no. Cavolo, cavolo. Mi metto Bea, mi metto Bea. Mi metto Bea e proviamo, raga. Andiamo. Aspetta, mi sa che devo abbassare un pochettino il volume. Devo abbassare un altro po' il volume. Ecco qua. Dovrebbe andare bene. Vabbè, tengo una Bea con sé paura, non devo mettermi paura. Andiamo. 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 No. No. Oh no. Ok. No, e vabbè. Chi ce la fa contro stecchino? Vabbè. Un attimo qui. Un attimo qui la registrazione, Vok. Andiamo. Con i fanno facciamo tante coppe. Vedo che con i fanno facciamo tante coppe, però se è preso il 49 gen, ora sono le 10. No. Ecco. No. Ecco. oggi avevo trovato nella cassa brawl bear e nella mega cassa ho trovato 6 skip e ho trovato stecchino che dopo lo proviamo avevo fatto poche cottine con lui no la vedo dura che vinciamo andiamo andiamo vabbè mi va bene pure un secondo posto mi va più che bene ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina di tutte le notifiche così non vi perderete nessuno il mio video ma qui la bella no mi avrebbe sicuro colpito l'ultimo prese di colt e rimasto non ci posso l'importante è che non l'ultimo non mi ha ucciso colp l'ultimo vabbè con l'ultimo no io prendo il mio soccettino l'ultimo 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 ok va bene bravo da nooo nooo jo deployment l'ultimo 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 non fa niente ok piccanto. ragazzi guarda facciamo ma partita e a vabbè ragazzi parla deve andare vabbè ciao ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale ciao